Mi sono accorta di non avere ricordi. A volte mi chiedo come ho fatto a cancellarli così. Mi dispiace che parti, lo sai? Torno presto. Sì, lo so, mi mancherei. Voglio vedere mio fratello. Voglio passare un Natale con la mia famiglia. Non so più neanche se ne ho una. Non riesco più a capire cosa le passa per la testa. A volte sembra per celebrare di vestiti se la tocco. Non è che ha capito qualcosa. Ma che cazzo dici? Cos'hai? Ma no, niente. Ho fatto un sogno orrendo, guarda. Non riesco neanche a raccontartelo. 757, mi dai il numero? Si, devi fare due cose in una volta. Per un uomo non è facile, lo so. Me lo dai sto numero? Ho fatto un sogno orribile. Cosa può essere di tanto terribile? È solo un sogno. Perché io ho fatto quel sogno, Daniele? Perché ti è successo? Amore, da quando sei tornata dall'America hai cambiato tutto. Mi spieghi perché? Ti tieni sempre a distanza dalle cose che ti angosciano. Non devi dirlo a nessuno perché sono cose che succedono. Come si può mischiare un segreto come il nostro alla vita della gente normale? Non si può.